Chi porta un fiore, chi una pianta, chi un lumino, tutti sicuramente almeno un pensiero per i propri cari che non ci sono più. Il 2 novembre è una giornata particolarmente sentita dagli italiani che come da tradizione si sono recati nei cimiteri per un saluto ai defunti. È importantissimo ricordare i defunti anche perché si può dire che loro vediamo il passato, vediamo le persone che ci sono state vicine e ci hanno dato sostegno in modo particolare. Un senso religioso che mi hanno insegnato sin da bambina, diciamo che poi la realtà è questa e chiaramente non veniamo per fortuna solo quando è la commemorazione dei defunti. Ho perso papà l'anno scorso quindi oggi sto qua. Molto importante perché vengo a trovare mia nipote che è morta da giovane. È un momento, un ricordo bello di ringraziare le persone che ci hanno voluto bene. Tra i fiori il crisantemo continua ad essere l'omaggio preferito da portare sulla tomba dei propri cari e nonostante la produzione dei fiori si è in calo di circa il 10% a causa dei cambiamenti climatici, i prezzi al dettaglio, fa sapere la Col di Retti, sono rimasti sostanzialmente invariati. Ho trovato dei rincari sui prezzi di piante e fiori o sono rimasti più o meno uguali? No, più o meno uguali. A dire la verità non ho trovato tanti rincari, no no, sembra che sono normali insomma. Sinceramente non è che ci ho fatto tanto caso perché quando prendo i fiori per i miei genitori non guardo neanche il prezzo, sono sincera, però no, non credo.